Buonasera a tutti i telespettatori di Le Fonti TV, buonasera a te Alexandra, siamo qui nuovamente a Palazzo Mezzanotte per una serata dei nostri Le Fonti Awards, questa sera dedicati a innovazione e leadership a HR, Innovation and Diversity e anche come di consueto agli studi legali d'eccellenza. Ma partiamo subito con un ospite, ho infatti il piacere di avere qui accanto a me Lello Piperno, CEO di Adattofin. Adattofin è stata segnalata come finalista di Le Fonti Awards come eccellenza dell'anno, innovazione e leadership nella mediazione creditizia per le PMI. Insomma, come commenta questa selezione e cosa vi distingue rispetto agli altri? Allora guardi, intanto sono molto sorpreso di questa nomination, chiamiamola così, giunta inaspettatamente. Siamo consapevoli del lavoro che svolgiamo quotidianamente e l'impegno che ci mettiamo e la passione che ci mettiamo. Però sicuramente questa nomination ci onora moltissimo. Ecco, quello di cui voi vi occupate è sicuramente un tema molto delicato. Tante piccole e medie imprese si trovano ad avere a che fare. Ecco, come voi le aiutate a superare gli ostacoli che spesso si frappongono tra loro e la crescita? Allora, penso che ciò che ci differenzia dai nostri competitors sia il metodo. Il nostro metodo di lavoro è quello di accompagnare l'azienda che ha un'esigenza finanziaria nel capire bene dove sono gli ostacoli che la separano dall'obiettivo. Ecco, credo che la consulenza che noi svolgiamo a queste aziende sia un valore importante per loro. Lei ha anche un ruolo all'interno di un'associazione. Ecco, possiamo raccontare un po' di più ai nostri telespettatori di cosa si occupa la sua associazione? Allora, intanto la ringrazio per questa domanda perché la nostra categoria, quella degli agenti in attività finanziaria e quella dei mediatori creditizi, è una categoria che purtroppo ha notevoli problemi che nascono da inefficienze del mercato, nascono da inefficienze del sistema bancario e nascono anche da vuoti normativi perché come tutti sappiamo recentemente, insomma non più troppo recentemente, ma nel 2010 è stata emanata una normativa che ha rivoluzionato il settore del credito e la nostra associazione che si chiama ASSOPAM, associazione per agenti e mediatori della quale sono il segretario generale con molto onore, cerca di tutelare gli interessi dei nostri associati, quindi della categoria, ma soprattutto, visto che dietro il lavoro di ciascuno di noi ci sono poi delle persone, delle aziende, quindi noi andiamo a tutelare alla fine, vogliamo tutelare alla fine gli interessi dei consumatori, cose come la segnalazione, come cattivi pagatori nelle banche dati che rimane per tanti mesi se non addirittura anni, è una cosa che danneggia fortemente le persone e in un paese democratico si dovrebbero dare tante opportunità uguali a tutti. È un tema di cui spesso ci è capitato di dibattere anche all'interno della nostra diretta e perché no approfondirlo ulteriormente magari ospitandola proprio in studio per approfondire questo tema. Io congedo il nostro ospite che ha così modo di godersi quello che al momento è ancora l'aperitivo di benvenuto perché la cerimonia si inizierà alle 19.30, grazie ancora per essere stato qui con noi. Per il momento da Palazzo Mezzanotte è tutto Alexandra, cedo a te la linea, ci ritroviamo tra poco con nuovi ospiti.